L'avvocato Giovanni Gugliotti, presidente della provincia di Taranto, la ZES come strumento indispensabile, imprescindibile per la crescita del territorio, uno strumento che vede la coesione, la cooperazione tra gli enti. Parliamo dell'apporto, del ruolo che la provincia intende dare, dà a questa nuova realtà. La provincia ovviamente è parte integrante all'interno di questa pianificazione che con la regione, con il Comune di Taranto, ma con i diversi comuni, sta mettendo in campo una serie di strategie che devono, ci auguriamo, portare al rilancio del territorio. Dotarsi di uno strumento così importante come la ZES credo sia assolutamente indispensabile e farlo soprattutto in questo periodo ci troviamo, proprio in questo periodo, a confrontarci con una serie di problematiche, anche di investimenti, investimenti di importanti operatori internazionali, non mi riferisco solo ad Arsalormittal, ma mi riferisco soprattutto al porto di Taranto che può diventare il volano, quindi anche per lo sviluppo futuro dell'intero territorio. Quindi è assolutamente indispensabile che tutti gli enti siano seduti intorno allo stesso tavolo, che parlino con una sola lingua e mi fa assolutamente piacere che ad iniziative come queste ci ritroviamo tutti quanti dalla stessa parte perché io sono convinto che se diamo tutti un importante contributo riusciremo a raggiungere l'obiettivo.